Allora, post partita di Little Club Levanto, terminata 2-3. Mister, seconda vittoria, un suo breve commento? Siamo molto soddisfatti perché abbiamo ottenuto questa vittoria fuori casa che non era affatto scontata. Infatti è stata una partita equilibrata, siamo riusciti a fare tre gol e questo ci ha premiato. Siamo ovviamente molto contenti. Avete subito gol praticamente all'inizio, siete però stati bravi a ribaltarla con due buone giocate da parte dei vostri attaccanti. Nella ripresa avete subito il gol del momentaneo pareggio, però siete stati nuovamente bravi a chiuderla segnando il definitivo gol del 2-3. Sì, è la cosa importante, abbiamo dimostrato carattere, non ci siamo disuniti né all'inizio né dopo aver preso il gol del 2-2. Questo è solo l'inizio di campionato dopo tanto tempo in cui nessuno ha giocato, quindi sono segnali importanti che ci fanno ben sperare. Ma la strada è ancora lunga e per raggiungere il nostro obiettivo mancano ancora un po' di vittorie, quindi ancora molto umili e andiamo avanti. Ok, grazie mille. Prego. Grazie mille.